A Firenze, Gronchi dedica il suo primo viaggio in Toscana dopo l'insediamento al Quirinale. Firenze lo ringrazia con quel puro accento che è per Gronchi il parlare nativo, di casa. A Palazzo Vecchio l'ha raggiunto la consorte. Nel Salone dei Cinquecento, benvenuto ufficiale della città. Il sindaco Lapira sottolinea il rapporto tra Firenze e l'arte dell'angelico, che viene illustrato dal professor Salmi, prima che il ministro Medici ne dichiari aperta la mostra. Essa è allestita nel convento di San Marco, dove l'artista visse, lavorò, pregò, dipingendo. La città celeste distende i suoi smalti sereni su queste opere. Esse ripetono con più ingenuo rapimento le visioni paradisiache di Dante, gli angeli, frate e il paese sincero.